E' stato uno dei luoghi simbolo dell'evento alluvionale di maggio 2023. Oggi però, dopo un anno e mezzo, il Vismara Calcio può tornare nella sua casa. Il campo sportivo di Vialire ha infatti tagliato il nastro alla sua seconda riqualificazione dopo la devastazione procurata dall'esondazione del vicino Fosso della Ranocchia. La società giallorossa e il quartiere di Vismara hanno riabbracciato il loro impianto sportivo rigenerato da un intervento da 700.000 euro fra risorse comunali e fondi ottenuti dal Bando Sport e Periferie. Investimenti ai quali si sono aggiunti 79.000 euro per la sistemazione e pulitura dei fossi di Vismara con l'inalzamento dell'argine in prossimità del campo. Noi abbiamo 220 tesserati, abbiamo 180 bambini e è proprio il caso di dire che siamo tornati a casa e molto contenti perché è stato un anno difficile, però oggi basta guardare qui fuori il campo. Oggi siamo molto soddisfatti sia che torniamo qui ma soprattutto anche perché le istituzioni e il comune ci ha dato veramente una bella mano e siamo riusciti a tornare e speriamo che questa volta anche la sistemazione del Fosso ci renda un po' più tranquilli. Abbiamo fatto un altro, un ulteriore investimento sugli impianti sportivi e fare un investimento sugli impianti sportivi significa generare valore sociale e ricchezza per la città. Dico questo perché, dico un numero, nel 2023 gli investimenti sullo sport hanno generato 12 miliardi di ricchezza in termini di sicurezza, in termini di miglioramento della qualità della vita, di salute di giovani, di sicurezza perché si sono tolti i giovani dai campetti e venire qua, proprio in questo campo, pochi giorni dopo l'alluvione e constatare quello che era l'amore che questa società aveva nei confronti di questo impianto, anche la cura con cui lo teneva, ha messo in moto un meccanismo importante di rinascita, perché pochi giorni dopo abbiamo stanziato delle risorse per il Fosso della Badia e abbiamo cercato di sviluppare nel più breve tempo possibile un progetto che fosse in grado di intersettare delle risorse per fare un intervento sia di recupero del campo da calcio 11, del campo di calcio 5, ma anche un importante intervento di efficientamento energetico di quelli che sono gli spogliatoi e tutto l'impianto in sé. La seconda volta che inauguriamo questo campo, perché il campo era già stato realizzato un paio di anni fa, poi c'era stata quella alluvione del maggio 2023 che l'aveva completamente distrutto. A quel punto era diventato veramente un grosso problema, perché una società sportiva così importante, un quartiere così importante, si ritrovava senza un luogo di aggregazione strategico. Siamo riusciti come amministrazione, e devo dire che voglio ringraziare anche l'amministrazione precedente, perché questo è un risultato anche grazie al lavoro portato avanti dalla precedente amministrazione, dove si è riusciti a partecipare a un bando, a un bando nazionale, e siamo riusciti ad aggiudicarci questo bando e oggi siamo qui ad inaugurare appunto questo impianto. Un doppio investimento, importante, ma che sicuramente meritava di essere portato avanti, perché ripeto, lo sport, in questo caso lo sport per i giovani, deve essere sempre una priorità. L'impianto rigenerato riporta i tesserati di Vismara nel loro campo dopo un anno e mezzo in cui giallorossi hanno trovato il sostegno e l'accoglienza di tante società sportive cittadine e il supporto della Regione Marche nell'affrontare l'attività sportiva in condizioni tanto precarie. Sì, ci siamo adoperati come Regione Marche, sono riuscito a reperire nel bilancio passato 50.000 euro da destinare all'attività sportiva per la stagione, perché giustamente la tematica e la problematica non era solo legata alla fruibilità del campo, ma anche a un contributo finché la società potesse svolgere in maniera fattiva il campionato anche per il settore giovanile. Sono sicuro che sono soldi che sono stati molto utili per l'attività della stagione e oggi è un momento di ripartenza e sono molto contento di essere qua.